E per la pallavolo nella sesta giornata di Superlega la Sir Conad Perugia a punteggio pieno alle 18 affronta in trasferta Trento per provare a mantenere la vetta della classifica. In campo fofemminile invece sfida ad alto coefficiente di difficoltà per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che al Palabarton alle 17 ospiterà la capolista del campionato Conegliano.